Andy, potresti dirci se conosci Greenbox come incubatore di idee a Torino? Lo conosci? Greenbox? È un posto fighissimo. Hai detto Greenbox? Che cacchio è? No, seriamente, ci sono corsi di Photoshop, di tiro collato. Che posto è? Un sacco di idee da parte di tutti. No, non lo sapevo. È in via Sant'Anselmo 25 a Torino. Passa a trovarci, ok? No, però passerò sicuramente.